I treppoggi è un'azienda agricola innanzitutto, nasce negli anni 2000, abbiamo due ettari a conduzione biodinamica, lavoriamo in viticoltura, siamo anche un ristorante, siamo un albergo con 12 stanze e anche un centro benessere. Siamo qua nell'orto, parleremo di come sono arrivato alla biodinamica attraverso l'agricoltura sinergica e la permacultura, quali sono i suoi principi e poi più nello specifico qual è il metodo biodinamico applicato alla viticoltura un pochettino più nel dettaglio. L'agricoltura biodinamica è un metodo che è stato messo a punto da Rudolf Steiner ai primi del Novecento e consiste innanzitutto un metodo biologico e consiste nell'utilizzo di 7 preparati denominati 500, 501, 502, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi questi preparati sono 7, 2 sono da spruzzo, il corno letame e il corno silice e gli altri 5 sono da cumulo. Da cumulo si intende che vengono inoculati sul cumulo di letame per poi essere in autunno apportati al terreno. Allora per entrare più nello specifico di come viene condotta la nostra vigna in biodinamica possiamo innanzitutto dire che le fasi si dividono in due parti. Una fase è agronomica fin tanto che l'uva è diciamo in vigna e in campo e nel caso di questa agricoltura naturale noi non usiamo diserbanti, non usiamo antiparassitari, non usiamo antimuffa, non usiamo nessun tipo di prodotto dalla sintesi della chimica, nessun tipo di sistemico. Le uniche due cose che sono ammesse nel nostro tipo di agricoltura sono lo zolfo in polvere per combattere una malattia che si chiama loidio e il rame, ovviamente a basse dosi per combattere la peronospera. Quindi questo è tutto ciò che noi facciamo in vigna per portare appunto dell'uva a maturazione. Quando poi l'uva arriva in cantina dove normalmente avvengono le cose peggiori, noi non usiamo lieviti per far partire la fermentazione, ovvero per far partire la fermentazione, gli lieviti esistono già propri dell'uva, noi facciamo una piccola prevendemmia, la teniamo a temperatura controllata, la facciamo fermentare, poi arriviamo con il grosso della vendemmia, inoculiamo tutta questa parte ed ecco che la fermentazione avviene in maniera naturale. Dopodiché lungo tutto il processo di fermentazioni e di crescita diciamo di questo nuovo alimento non usiamo acidificanti, non usiamo disacidificanti, non usiamo aromi aggiunti, tannini, glucosi e quant'altro normalmente nei vini convenzionali viene utilizzato diciamo dagli enologi che tendono a snaturare e standardizzare il gusto dei vini. Questi sono sostanzialmente due fasi, la fase agronomica pulita da un punto di vista etico dove si rispetta la terra e un punto di vista enologico dove si rispetta soprattutto poi la salute di chi questo vino lo deve bere. Risultato di un vino biodinamico, innanzitutto è difficile, anche le persone più esperte, anche un sommelier avrebbe difficoltà a distinguerlo e bevendolo, ma quello che sicuramente si può percepire subito e maggiormente il giorno dopo è sicuramente un vino che non lascia il giorno dopo non lascia postumi, non lascia cerchi e la testa. Questo credo che sia sostanzialmente dovuto al bassi contenuti di solforosa che noi possiamo usare. La solforosa è un conservante del vino, viene usato in dosi massicci nei vini convenzionali perché questi vini devono viaggiare, devono poter prendere il sole, devono poter stare su dei piazzali, dentro i container, quindi normalmente ne viene messo molto ma molto di più di quello che ne serve. Noi usando poca solforosa non abbiamo quei problemi, quindi un vino biodinamico non inibisce la digestione, come dicevo non lascia postumi, cerchi di mal di testa e poi cosa impercettibile ma sicuramente di maggior importanza non ha quei residui di pesticidi che normalmente in altri vini ci sono.